Innovazione e sostanzialità Non hanno sempre condiviso il percorso di crescita In passato, anzi, era vero il contrario Con le politiche sostenibili che mal si sposavano al concetto di innovazione Questo sia perché l'utilizzo e lo sviluppo delle tecnologie Andava a braccetto con lo sfruttamento, spesso incontrollato, delle risorse Sia perché anche quando si è iniziato a interrogarsi circa l'impatto sull'ambiente La sostenibilità è stata considerata solo come un costo Un ostacolo all'innovazione Oggi questa visione si è ribaltata E non può esistere innovazione senza sostenibilità Con Nubio che rappresenta ormai l'unica via percorribile Per rispondere e cercare di anticipare le esigenze del mercato A questo occorre aggiungere che ora come ora non c'è un piano B La sostenibilità è l'unica strada percorribile Verso l'ottimizzazione dei processi produttivi e dell'innovazione Che crescono proporzionalmente alla capacità di fare azienda in modo sostenibile Ma soprattutto non esiste un pianeta B Che permetta alle aziende, ai cittadini e a tutta la società Di innovarsi senza salvaguardare le risorse Benvenuti a Eco più Eco L'industria del futuro tra transizione ecologica ed economia circolare Un progetto di terza missione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo E Confindustria Pesaro Urbino In collaborazione con Lega Ambiente In ogni puntata parleremo del futuro del nostro pianeta E proveremo a capire come possono le aziende e i singoli cittadini Fare la loro parte attivamente e positivamente Scopriremo aziende del territorio e le buone pratiche da mettere in atto E ne analizzeremo gli aspetti tecnici e scientifici e ambientali Insieme alle università e a Lega Ambiente In questa puntata parleremo di sostenibilità e innovazione dei processi produttivi Insieme ai nostri ospiti a cui passo a dare il benvenuto Innanzitutto ingegnere Claudio Carattoni L'amministratore delegato di SIT Azienda tra i principali player sul mercato europeo del packaging flessibile Benvenuto Grazie mille, grazie mille per l'invito Giovanni Marin, professore associato di Economia Applicata Docente di Economia dell'Innovazione ed Economia e Politica Ambientale Presso l'Università di Urbino, Carlo Bo Benvenuto professore Grazie E in collegamento abbiamo Francesco Spinelli Coordinatore Ufficio Partnership con le imprese di Lega Ambiente Nazionali Benvenuto Grazie mille Dottor Spinelli partiamo proprio da lei Vorrei chiederle appunto in quanto referente di Lega Ambiente Se ci racconta che cos'è la sostenibilità Questa domandona un po' ampia ma sicuramente molto interessante per i nostri ascoltatori e telespettatori Ok innanzitutto grazie per l'invito è un piacere essere qui oggi con voi Venendo alla domanda non è certo semplice riuscire a dare una definizione di sostenibilità Nei diversi aspetti che oggi la caratterizzano nel tempo a disposizione per questa risposta Per semplicità provo a racchiuderla in una definizione e dire che con sostenibilità si può intendere la capacità di soddisfare le esigenze del presente Senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le loro Mi piace questa definizione perché secondo me racchiude due aspetti fondamentali che devono essere sempre tenuti a mente quando si parla di sostenibilità Il primo è che la sostenibilità non può essere intesa come un qualche cosa di statico Necessariamente dobbiamo vederla come un concetto dinamico Non è un caso che parlando di sostenibilità si senta parlare spesso di transizione ecologica Il secondo invece è che la sostenibilità non la possiamo racchiudere in un'unica dimensione Se parliamo di sostenibilità dobbiamo parlare certamente di sostenibilità ambientale Ma questa per renderla pienamente sostenibile c'è bisogno di affiancarci una sostenibilità che sia sociale e che sia economica E in questo senso va anche l'agenda 2030 Che è il documento probabilmente più conosciuto in termini di sostenibilità Che è l'agenda sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite E approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU Ed è un'agenda costituita da 17 macro obiettivi per lo sviluppo sostenibile E vedete come anche qui parlando di sostenibilità si parli di sviluppo sostenibile Un qualcosa sempre di dinamico Questi 17 macro obiettivi sono inquadrati all'interno di un programma Che prevede poi dei sottotarget molto più ampi 169 ad essere precisi Da raggiungere però l'appunto in ambito ambientale, economico, sociale, istituzionale Con l'obiettivo temporale del 2030 Siamo quindi oggi sostanzialmente al giro di boa dell'agenda 2030 Perché rispetto al 2015 sono passati 8 anni Ne abbiamo altri 7 davanti E stando agli ultimi dati disponibili a livello mondiale Solo il 12% dei target previsti è sulla buona strada per il raggiungimento Mentre il 30% circa è rimasto o fermo O addirittura è regredito rispetto al punto di partenza del 2015 Questo deve ovviamente farci scattare un campanello d'allarme Anche perché l'Italia a livello europeo Diciamo su 38 paesi che vengono presi in considerazione Allargando un po' la forbice di quelli che sono soltanto i paesi UE Sta al diciannovesimo posto Quindi sicuramente diciamo lo stiamo brillando Anche in termini di attuazione di politica del nostro paese È evidente dunque come in termini di sostenibilità Ci sia tanto da fare e ci sia da farlo in fretta Perché il tempo sta finendo Un'agenda che coinvolge le aziende, i cittadini Le pubbliche amministrazioni Coinvolge un po' tutta la società appunto che ci circonda Di cui facciamo parte Quello che sarebbe interessante capire Provo a rivolgere la domanda al professor Marin È come la sostenibilità entra nei processi produttivi Come è entrata nella mentalità aziendale Quindi anche dal punto di vista sociale Se lei ha modo di darci una visione su questo tema Per l'impresa la sostenibilità significa anche moltissimo Cambiare i propri processi produttivi e i propri prodotti Quindi richiede innovazione L'impresa per poter integrare la sostenibilità ambientale o sociale Nei propri processi deve innovare Quindi o pensare a nuove soluzioni O cercare all'esterno l'adozione di soluzioni esterne L'innovazione però ha delle motivazioni in genere guidate al profitto per le imprese Quindi l'impresa in genere innova Per qualsiasi tipo di innovazione Per o migliorare i prodotti Per chiedere un prezzo più alto ai propri consumatori O per ridurre i costi di produzione E quindi avere un margine di profitto superiore Quando abbiamo a che fare con innovazioni Che migliorano la sostenibilità Quindi o sociale o ambientale dell'impresa Queste innovazioni non hanno storicamente avuto un ritorno immediato per le imprese Perché vanno a risolvere un problema sociale Quindi vanno a ridurre il costo degli impatti ambientali per la società Per la comunità O vanno a migliorare le condizioni sociali dei propri lavoratori per esempio Per far sì che i benefici dell'innovazione ambientale Vengono poi percepiti dall'impresa Ci sono diverse modalità La prima modalità è la regolamentazione pubblica Quindi il sottore pubblico Da ormai decenni in Europa Ha regolamentato molti ambiti ambientali e anche sociali Per indurre le imprese A introdurre quelle innovazioni Che migliorano la performance ambientale e sociale Le imprese quindi per evitare di incorrere in sanzioni O di pagare per esempio delle tasse sull'inquinamento Sceglierà piuttosto di innovare e migliorare i processi produttivi e i prodotti O anche per avere dei benefit magari degli incentivi O per accedere a sussidi Esatto, quindi l'altro lato Facciamo vedere bastone La tassa o carota del sussidio Un altro elemento che è molto rilevante da qualche anno È invece la richiesta dei consumatori Di introdurre nei prodotti e nell'intera catena produttiva Dei miglioramenti Quindi il consumatore non è più un consumatore che guarda solo e soltanto al prezzo Ma per molti prodotti Molti di noi consumatori ormai Guardano anche alla performance di sostenibilità del prodotto che sta acquistando E quindi ci sono imprese che si rendono conto Che ormai offrire un prodotto che non garantisce, non offre un grado elevato di standard di sostenibilità Può portare a perdere la grossa quota di mercato E quindi un modo anche di ottenere un beneficio per l'impresa dell'innovazione ambientale È anche di rendere efficienti i propri prodotti e dimostrarlo ai consumatori Quindi renderlo anche appetibile Renderlo appetibile, esatto Allora, proviamo a scendere un po' nel dettaglio Abbiamo qui ospite un'azienda che appunto ha fatto della sostenibilità uno dei suoi cardi Uno dei suoi punti forza Dottor Cartoni, come entra nella vostra azienda la sostenibilità ambientale? Come influenza il vostro processo produttivo? Certo, allora innanzitutto spiego un attimo cosa facciamo Due parole Il gruppo SIT si occupa appunto, come ha detto lei, di imballaggio flessibile Prevalentemente per l'industria alimentare Quindi i nostri clienti sono i grossi gruppi alimentari Oggi, per capirsi in Italia, Ferrero, Barilla sono i nostri principali clienti Ma adesso Mars, Nestlé Stiamo parlando di tutte le grosse multinazionali del food Quindi il prodotto è il prodotto che poi confezione e protegge l'alimento Quello che troviamo poi sullo scaffale del supermercato Ecco, parlando di sostenibilità mi associo a quello che è stato detto prima Oggi è impensabile dal mio punto di vista scindere i temi della sostenibilità del conto economico Che comunque è chiaramente alla base di fare impresa Dagli aspetti ambientali e dagli aspetti sociali Sicuramente hanno influenzato, hanno aiutato le normative che sono nate Spesso e volentieri per le imprese, questo riguarda sicuramente il gruppo SIT Che da sempre hanno seguito questa strada Vi è anche un discorso etico, vero e proprio Per cui ovviamente è impensabile fare impresa senza preoccuparsi dell'impatto che l'impresa ha sull'ambiente E senza preoccuparsi soprattutto del patrimonio più grande delle aziende che sono le persone Quindi sicuramente prima bisogna occuparsi del benessere dei propri collaboratori A partire dalla sicurezza sul luogo di lavoro Chiaramente questo è fondamentale Per arrivare poi a tutti gli strumenti moderni, attuali di lavoro anche più moderno Per gli impiegati, smart working, eccetera Piuttosto che strumenti evoluti di welfare aziendale Ecco, questo noi lo spingiamo moltissimo Così come le tematiche relative all'ambiente Che poi si traducono in attenzione alle emissioni, ai rifiuti, agli scarti Efficientamento energetico e così via Le faccio qualche esempio concreto sulla parte ambientale Per il nostro lavoro che appunto riguarda il packaging La realizzazione del packaging che viene realizzato attraverso dei macchinari da stampa Perché è il packaging stampato Quindi abbiamo delle macchine da stampa rotocalco, flessografiche Noi utilizziamo delle enormi quantità di solvente per diluire gli inchiostri, gli adesivi Che poi formano questo packaging Ecco, alla fine questo solvente deve essere fatto evaporare per asciugare l'inchiostro E quindi poi estrarlo completamente dal prodotto E oggi questo solvente viene trattato attraverso dei filtri in emissione E completamente attraverso un processo di strippaggio Viene prima appunto recuperato e poi riutilizzato all'interno del ciclo produttivo È una tecnologia molto all'avanguardia Tra l'altro è una tecnologia italiana Ma che ci permette di recuperare e reintrodurre appunto nel processo produttivo Il 100% del solvente utilizzato E questo realizzando un po' il discorso dell'economia circolare Certo In questo senso Un altro esempio le faccio che tra l'altro stiamo implementando in questi giorni Sullo stabilimento di Pesaro Abbiamo un sito produttivo molto importante a Pesaro E un impianto di efficientamento energetico Attraverso l'introduzione di un trigeneratore Che ci permetterà di fare energia elettrica Partendo dal gas Ma creando maggior efficienza E quindi riducendo sicuramente l'impatto ambientale E di conseguenza poi anche il costo della bolletta del luce e gas Comunque ripeto Come vede sono piani tutti interconnessi Nel caso di SID Infine chiaramente il tema sostenibilità riguarda il nostro stesso prodotto Il packaging E quindi quello che spesso poi alla fine è un rifiuto Quello che alla fine è dell'utilizzo della merendina Della pasta eccetera eccetera A volte non sappiamo dove mettere Nella plastica, nella carta eccetera Ecco Noi stiamo lavorando moltissimo insieme ai grossi gruppi alimentari che serviamo Per cercare di indirizzarli Di proporre packaging sempre più sostenibili E questo per noi Lavorando moltissimo sull'innovazione di prodotto E quindi questo per noi è un altro filone importantissimo Sul quale ci stiamo muovendo Su questo mi permetto di fare una domanda scomoda Non la rivolgo a lei La vorrei rivolgere al professore Ha detto appunto Ha parlato di packaging che poi diventa un rifiuto Nella vita quotidiana dei cittadini Spesso abbiamo la casa tra virgolette invasa da questi rifiuti Da questo packaging che poi appunto dobbiamo in qualche modo smaltire Viene considerato una grande fonte di inquinamento C'è sempre un po' di reticenza da parte del consumatore Quando gli arriva a casa un packaging ingombrante E a dirlo eccessivo poi magari non lo è Ci sono delle motivazioni E quindi vorrei proprio chiedere al professore Marin Se ci dà una spiegazione su che cos'è il packaging E a che cosa serve il packaging Cioè motiviamolo questo prodotto Partirei da un posto indietro Quindi noi non acquistiamo il packaging Ma acquistiamo un prodotto Il prodotto che acquistiamo in realtà Se pensiamo ad un alimentare È sia il prodotto fisico Ma anche la sua durata nel tempo E la sua qualità Come si preserva nel tempo Quindi quando acquistiamo un frutto Non acquistiamo una mela Ma acquistiamo una mela Che dure un certo periodo di tempo Nella nostra casa E arrivi a casa sana e integra Quindi il packaging è quello che consente È quell'elemento del prodotto Parte del prodotto complesso Che consente di trasportare nel tempo E anche nello spazio I nostri prodotti Il packaging è sicuramente una fonte di inquinamento In Europa in media Vengono prodotti rifiuti di packaging Pari a 177 kg pro capite Quindi questo è nel 2019 In Italia siamo sopra la media 215 kg pro capite Quindi è una quantità rilevante Ma per questo fine molto specifico Quindi il packaging consente di ridurre Di migliorare la qualità del prodotto Che sta dentro al packaging Consentire quindi una maggiore durata Il packaging è fatto da diversi materiali Quindi diversi materiali Hanno sicuramente impatti ambientali diversi Però ogni materiale è o dovrebbe essere Adatto al prodotto che va a proteggere Su questo credo che ci sia molto da lavorare Nei vari settori in termini di miglioramento Della scelta del materiale Della modalità di packaging Anche per ridurre questa nostra sensazione Di consumatori che veniamo sommersi Spesso da questo tipo di prodotto Ma occorre sempre bilanciare I benefici e i costi del packaging Quindi il packaging è sicuramente un costo In termini di materiali e di energie necessari Per produrlo E su questo l'innovazione nel settore del packaging Nella produzione Per ridurre le richieste di energia È sicuramente uno sforzo importante Dall'altro però Consente di avere un minore scarto In termini di rifiuti alimentari Per esempio Un minore scarto in termini di rifiuti Di altri prodotti Che arrivano integri nelle nostre case E non fallati E quindi serve uno sforzo Sia nel lato di produzione del packaging Ma anche nel lato di comprensione Dell'importanza del packaging E infine lo sforzo serve anche Per i consumatori Che devono comprendere Come smaltire nel miglior modo il packaging Su questo i nostri I nostri enti locali Che si occupano della raccolta di rifiuti Hanno fatto un lavoro molto importante Un lavoro che non è ancora completo Quindi serve ancora molta informazione Anche perché il packaging Per essere efficace Richiede delle soluzioni tecniche Spesso Che rendono più complicato Invece un recupero Tra l'altro nella regione Marche Nella provincia di Pesaro Rubino I cittadini sono decisamente virtuosi Nella raccolta differenziata I dati parlano di una delle province Più virtuose anche a livello nazionale Quindi i cittadini hanno questa accortezza Quello che a volte non riescono a comprendere Ma non per qualche colpo particolare Ma semplicemente per non conoscenza Appunto del retroscena Che c'è dietro tutta la produzione E appunto come diceva il professore Il valore del packaging O meglio il valore Che quel packaging Permette di dare al prodotto Quindi una durata nel tempo Che può essere alimentare O un'integrità Di un prodotto che ci arriva a casa Adesso siamo sempre più abituati A fare acquisti online Quindi comunque c'è un trasporto importante Dal sito del produttore Fino a casa nostra Se quel prodotto non fosse imballato bene Potrebbe arrivarci rovinato E addirittura peggiorare la situazione ambientale Perché andrebbe rifatto Riestratti dei componenti E via dicendo Non so se dal punto di vista delle aziende Voi vedete anche delle situazioni In cui il packaging è esagerato Oppure è sempre un punto di vista Diciamo del cittadino Allora io le posso dare il punto di vista Dall'azienda alimentare Per le quali noi lavoriamo Quello che posso dire È che negli ultimi anni L'attenzione al packaging È aumentata in maniera incredibile Quindi chiaramente nasce Da una sensibilità completamente diversa Da parte di tutti noi cittadini Tutti noi consumatori Che poi si rivolge Arriva ai produttori Dei nostri prodotti Alla Ferrero, a Barilla Che a sua volta Lavora in maniera fortissima Per migliorare il packaging Anche sotto l'aspetto ambientale Questo è un dato di fatto Tant'è vero che Noi come produttori di packaging Abbiamo Ad esempio Stiamo supportando questo processo Abbiamo a San Marino Dove c'è la casa madre Un proprio centro di innovazione Di packaging Attraverso il quale Lavoriamo con i nostri clienti Per cercare soluzioni di packaging Sempre più sostenibili Oggi si sta lavorando sostanzialmente In due direzioni Il packaging base carta Ce ne accorgiamo al supermercato Troviamo sempre di più Pack base carta Sicuramente la carta è un materiale Molto sostenibile Si ricicla completamente Però L'altro aspetto sul quale Si sta lavorando Perché non sarà possibile Trasformare tutto in carta Perché comunque Come diceva giustamente il professore La carta ha determinate caratteristiche Ma non ne ha altre Ci sono dei vincoli Ci sono dei vincoli Giustamente il packaging Serve per proteggere Il prodotto che confeziona E avere un packaging Non adeguato Significa a volte Ridurne La chef life Il consumarsi preferibilmente Dentro il E allora se poi butto Il packaging Assieme al prodotto Perché mi è scaduto Nello scaffale Il danno ambientale Sicuramente Molto più alto Quindi l'altro filone È un packaging Base plastica Però Monomateriale In modo tale Che sia sempre Riciclabile Nella plastica Su questo Si sta indirizzando L'industria alimentare E come SIT Noi stiamo lavorando molto Anche per offrire I nostri clienti Dei veri e propri studi Diciamo così Di impatto ambientale Dei PAC Quindi dei Life cycle assessment Che sono delle metodiche Che ci permettono Di valutarne L'impatto Sia a livello Di risorse impiegate Che poi Per lo smaltimento Eccetera eccetera E questa cosa È molto È molto Apprezzata Dai nostri clienti E quindi Si lavora Fortemente insieme Verso questa rivoluzione Le assicuro Che negli ultimi anni Stiamo assistendo A una vera propria Rivoluzione In ambito alimentare Dei packaging Utilizzati Nella protezione Di prodotti E questo Lo trovo Una cosa molto positiva Che nasce Da una sensibilità Completamente diversa Che abbiamo tutti noi Nei confronti dell'ambiente Quindi una bella cosa Uno degli argomenti Che è uscito spesso fuori Nelle precedenti puntate È appunto Il discorso Di saper riciclare Come diceva lei Il packaging Anche la Se fosse completamente Di plastica È importante Riciclarlo In modo giusto Perché la plastica Non va demonizzata Ma va considerata Per quello che è Quindi una grande risorsa Che va usata Ovviamente Nella maniera giusta Mi viene in mente Una domanda Che provo a rivolgere Sia a lei Che anche Direttamente A lega ambiente Esistono delle indagini Di mercato Delle analisi Di mercato Sui cittadini Sul loro feedback Verso il packaging Cioè hanno Come considerano I cittadini Il packaging Non so se Esistono queste dati Provo a dire due cose Allora Nell'associazione Di categoria Delle aziende Che fanno Il nostro mestiere Studiamo molto Questi aspetti E ovviamente C'è un tema Plastica Oggi la plastica Gode di una Pessima reputazione Perché poi La plastica Ovvio La buttiamo a terra Se la buttiamo a terra Rimane lì Rimane lì per anni Il problema è Che non va buttata a terra Non va buttata a terra Forse dopo Nasceranno altri discorsi Viceversa Però Ben indirizzata Come ha detto Giustamente lei Può essere Assolutamente E' una risorsa Esistono già filiere Estremamente virtuose Quindi Tipo quella delle bottiglie In PET Che sono assolutamente Riciclabili Tant'è vero che oggi Già in molte bottiglie Troviamo il contenuto Di riciclato Molto alto Dobbiamo tenere conto Di un fattore Chiaramente qui Stiamo parlando Di tutti i imballi Che vanno a diretto Contatto con un alimento Quindi sono sottoposti A una legislazione Assolutamente rigorosa Sotto l'aspetto Del rischio Per la salute E quindi questa cosa È una cosa molto seria Però Di passi avanti Se ne stanno Se ne stanno facendo Ecco Dal mio punto di vista Forse bisognerebbe Forse lavorare Un po' di più Anche su una Errata reputazione Di alcuni materiali Fra cui la plastica E portare Più verso Magari una corretta Informazione Educazione Di come utilizzarli E qui c'è anche Un aspetto Del legislatore Perché poi Bisogna anche Cominciare Forse ad avere Una maggiore Regolamentazione E una maggiore Chiarezza Di come poi Questi materiali Vengono raccolti Vengono trattati Vengono eventualmente Riciclati Perché poi Ogni comune Magari un po' La gestisce In maniera diversa Non è neanche facile Per ogni paese Per le aziende alimentari Puoi tirare fuori Il packaging giusto Che vada bene In tutte le aree geografiche Perché comunque Anche a livello europeo Si stanno scegliendo Strade un pochino diverse E questo non aiuta Non aiuta Però dai Siamo all'inizio Di un lungo percorso Sicuramente Assolutamente sì Dottor Spinelli A livello appunto Nazionale E anche europeo Prima ha parlato Di Agenda 2030 Negli ultimi anni Che cosa si è fatto E che cosa si sta ancora facendo Sulla sostenibilità E soprattutto Stiamo facendo abbastanza Nonostante i dati Ci dicano che siamo appunto La diciannovesima nazione Non siamo ecco Tra le prime posizioni Allora Io Proverai a distinguere Il discorso In due aspetti Principali Un primo È quello Del mondo aziendale Abbiamo Ascoltato prima L'esperienza Di SIT E le aziende Stanno facendo Tanto Noi siamo un paese Che molti Di noi non lo sanno Ma siamo Un'eccellenza In termini Di economia circolare E questo ci sta Diciamo Abbiamo tante aziende Che ci stanno Proiettando nel futuro Ci stanno Traghettando In un futuro Più verde Ci stanno permettendo Di vincere Quella che è la sfida Della transizione ecologica Questo va dal packaging Al settore Delle rinnovabili Fino a quello Della mobilità Sostenibile Tutti i settori Che poi Invece a livello Di politiche europee Prima si facevamo Riferimento Troviamo invece Una difficoltà Diciamo Nel Nel Relazionarsi Con Nel Relazionarci Con L'Europa Come paese Noi questo Lo stiamo provando A raccontare Come le cambiante Con una campagna Che è proprio Il titolo Di cantieri Della transizione ecologica E stiamo andando A toccare con mano Tanti di Questi cantieri E vi invito Ad andare a vedere Il nostro sito Internet Per scoprirli Da un altro Punto di vista Invece Al mondo delle aziende Si affianca Il mondo Della politica Parlando proprio Di packaging Dato che Prima L'azienda SIT Giustamente Faceva Riferimento Qui sappiamo Che in termini politici C'è in discussione Il nuovo regolamento Imballaggi E su questo Proverei a partire Dai numeri Per Per capire un po' Come poterlo Come poterlo Affrontare In modo Pragmatico Intelligente Che Preveda un dialogo Con Con le aziende Prima il professore Ci raccontava Come ogni cittadino Europeo In media Produca da solo 177 Chilogrammi Di rifiuti Di imballaggi Anni Questo è un dato Che sicuramente Ci testimonia L'importanza Di intervento Sul tema Io aggiungo Che gli imballaggi Da soli Costituiscono Il 36% Di rifiuti Solidi Che vengono Generati in Europa Da qui è evidente Come una necessità Di regolamentazione A livello Europeo Per l'appunto Esiste E debba essere Presa in considerazione E per questo C'è un regolamento Europeo Che tutt'oggi È in discussione E che per la sua Impostazione È molto Incentrata Sulla prevenzione Del rifiuto Da imballaggio E sul riuso Piuttosto che sul riciclo In un paese Come l'Italia Dove Siamo un'eccellenza In termini di riciclo Abbiamo citato I dati Delle marche È evidente Come questo Stia facendo Molto discutere La prima cosa Che da dire In merito Al regolamento E quindi Alle politiche Che stanno Vendo applicate È che Gli obiettivi Sono completamente Condivisibili E sono completamente In linea Con quelli che Diciamo L'agenda 2030 Ma anche L'obiettivo Di decarbonizzazione Europea Al 2050 E in sé Il regolamento Non va Diciamo Ad intaccare La filiera del riciclo È vero però Che presenta Alcune criticità Che Dobbiamo essere Diciamo Bravi Ad affrontare In Italia Per non perderci Quella che appunto È un'eccellenza Che abbiamo detto Che abbiamo detto Fino ad oggi Noi crediamo Che ci sia bisogno Di dialogo E allo stesso tempo Di coerenza Non possiamo essere Sempre quelli No all'Europa Su tutte le proposte Altrimenti Perdiamo di credibilità E poi anche Quando ci sono Tematiche Diciamo Reali Da affrontare In cui il nostro paese Realmente potrebbe dire La propria Diventa complicato Allo stesso tempo Perché il 30% Del compostabile Che viene raccolto Viene mandato In altre regioni E allora Diventa Complicato Affrontare un problema Trattando soltanto L'aspetto del riciclo E porre anche Delle criticità A livello europeo E allo stesso tempo Poi come paese Non siamo in grado Di mostrare Di dare il massimo Perché già siamo Un'eccellenza Ma dare ancora più motore A quello che è Un'industria effettivamente Iper virtuosa Che l'Italia ha E che ha sempre fatto funzionare Da qui a 30 anni Uno dei principali obiettivi Di questo progetto Del progetto Eco più Eco È quello di generare Conoscenza E consapevolezza Di diffondere queste due cose Perché senza di esse Non si può pensare Di mettere in atto Buone pratiche Non si può pensare Di ottenere un cambiamento Che è quello A cui tutti noi Stiamo appuntando Io vi ringrazio Per essere stati con noi In questa puntata E averci aiutato A generare consapevolezza Verso chi ci sta ascoltando Ringrazio al dottor Francesco Spinelli Di Lega Ambiente Per essere stato con noi In collegamento Grazie a voi Ringrazio il professor Giovanni Marin Dell'Università di Urbino Grazie E ringrazio Claudio Carattoni Dell'azienda SIP Grazie Grazie a voi E grazie a tutti voi Che ci avete seguito Speriamo di avervi lasciato Anche questa sera Qualche curiosità Qualche conoscenza In più Qualche consapevolezza E vi auguriamo Una buona serata Qualche consapevolezza